Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato. TG è stato trovato morto l'ottantenne che mancava dalla sua casa di Vaiano da martedì. Dopo lunghe e accurate ricerche, durate per tutta la mattina di oggi, si sono spente anche le ultime speranze. Il cadavere dell'anziano si trovava nel greto del torrente Brogna ed è stato avvistato grazie all'elicottero fatto intervenire da Bologna. Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, specialisti SAF, che hanno utilizzato una toboga. Le ricerche sono state coordinate dai vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre da Prato e Montemurlo. Presente anche i cani molecolari dei carabinieri, i quali sono ieri, solo ieri è stata presentata la denuncia di scomparsa. Secondo quanto appreso, l'anziano sarebbe uscito per una passeggiata a piedi senza fare ritorno a casa. L'uomo abitava con la sorella, anche lei anziana aveva problemi di salute. Andiamo avanti con il telegiornale e con la cronaca in particolare. Torniamo a occuparci del medico scoperto dalle Iene mentre prendeva soldi senza fare prestazioni, esami veri perché il medico sta continuando a lavorare in assenza di provvedimenti specifici o dalla procura o dall'ordine dei medici o dalla commissione paritetica dell'ASL e dalla medicina generale. Sentiamo. Continua a lavorare come se niente fosse il medico di medicina generale sorpreso dalle Iene a intascare soldi dai pazienti cinesi per esami inesistenti. La commissione paritetica prevista per le questioni disciplinari dalla Convenzione con la medicina generale e composta da Stoscana Centro e da rappresentanti della categoria non si riunirà prima di mercoledì prossimo e di conseguenza nel frattempo la persona in questione può continuare a esercitare. Ieri la troupe della trasmissione di Italia 1 è tornata negli studi di via Pistoiese per intervistare l'uomo provocando un parapiglia che ha portato anche all'intervento della Polizia. Di fronte alle lungaggini burocratiche legate al rapporto in convenzione per assurdo ancora più complesse rispetto a quelle previste per un dipendente, il direttore della Stoscana Centro Paolo Morello Marchese è corso ai ripari attivando un nucleo ispettivo che da domani sarà presente fisicamente nell'ambulatorio di via Pistoiese in questione per controllare nel dettaglio l'alto numero di pazienti stranieri soprattutto cinesi assegnati temporaneamente al medico e in generale allo studio. Va detto che la legge lo consente. Ad ogni medico di medicina generale infatti è consentito avere un numero massimo di pazienti aumentabile solo del 5%. Nel caso di stranieri l'assegnazione è provvisoria ma non ha limiti. Certo che tutto il macrolotto zero faccia capo agli studi medici accanto alla farmacia etrusca è quanto meno singolare. Da domani gli ispettori ASL valuteranno se tale concentrazione è corretta e di fatto il medico si ritroverà il loro fiato sul collo, un modo per tenerlo sotto controllo in attesa di provvedimenti concreti. Potrebbero accorciare i tempi lumaca della commissione paritetica due eventualità. Un provvedimento di sospensione dell'ordine dei medici di Pistoia a cui appartiene il medico o una misura cautelare richiesta al giudice dalla procura di Prato che ha aperto un fascicolo sulla vicenda per truffa aggravata in base all'informativa della finanza a cui ora si aggiunge la denuncia dell'ASL. In entrambi i casi i provvedimenti darebbero carta bianca all'azienda sanitaria per revocare la convenzione al medico senza passare dalla commissione paritetica. Restiamo in ambito sanitario ma stavolta per una buona notizia entreranno in servizio sabato prossimo al pronto soccorso del Santo Stefano di Prato sei nuovi infermieri e sei nuovi operatori sociosanitari. La decisione è stata presa anche per far fronte al sempre maggiore afflusso di pazienti che negli ultimi tempi, complice anche il picco influenzale, hanno creato non pochi problemi al reparto. L'intervento servirà sicuramente a migliorare il servizio anche se resta il nodo della difficoltà di trovare posti letto nei reparti in modo da far transitare velocemente i pazienti dal pronto soccorso. Torniamo a occuparci anche della manifestazione di Forza Nuova che Forza Nuova vorrebbe fare il 23 marzo perché il segretario, l'esponente del partito nigro chiede un confronto pubblico su questa manifestazione così contestata dal centro-sinistra e non solo. Intanto però la petizione per fermare la manifestazione vola. Sentiamo Nadia Tarantino. Io ci voglio mettere la faccia e voglio spiegare il motivo della manifestazione del 23 marzo. Il sindaco di Prato, i sindaci degli altri comuni e l'onorevole Giacomelli mi dicano quando e dove sono disponibili per un confronto pubblico sul tema. Tutti abbiamo diritto a esprimere opinioni e pensieri, io sono pronto a farlo pubblicamente. Lo scambio di vedute non ha mai fatto male a nessuno, anzi è un arricchimento. Così Massimo Nigro, candidato sindaco per Forza Nuova, risponde all'ondata di critiche e polemiche sulla manifestazione del 23 per affermare la necessità di politiche contro l'immigrazione. Una data che, ha spiegato anche nei giorni scorsi lo stesso Nigro, solo casualmente coincide con i cento anni del fascismo. Una coincidenza dovuta al fatto che solo in quella data può essere presente il segretario nazionale Roberto Fiore. Il sindaco Matteo Biffoni ha chiesto al questore di revocare l'autorizzazione. A sostegno di Biffoni, i sindaci della provincia. Il tema è stato portato all'attenzione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico e il prefetto ha detto che ogni decisione è rinviata lunedì prossimo, quando ci sarà la nuova riunione. La manifestazione di Forza Nuova a Prato è finita in Parlamento. L'onorevole Giacomelli, che già nei giorni scorsi aveva fermamente condannato l'iniziativa, è intervenuto alla Camera per ribadire una volta di più il contrasto con la legge che vieta qualsiasi evento che richiami il fascismo. Intanto la petizione online contro il corteo di Forza Nuova ha già raccolto migliaia di adesioni, mentre partiti e movimenti di sinistra stanno organizzandosi per una contromanifestazione, ovviamente il 23 marzo. I dettagli saranno definiti in una riunione in programma domani. Il candidato sindaco di Forza Nuova non si ferma, non arretra, anzi insiste su un incontro pubblico nel quale ognuno abbia l'opportunità di dire quello che pensa. Io con queste persone ci voglio parlare pubblicamente, il commento di Nigro. Sono disponibili a farlo anche nella sede dell'Ampi. Mi dicano loro luogo, data e ora e io ci sarò. Non ho problemi a spiegare il senso della nostra iniziativa, non sarò bravo quanto loro a parlare, ma non mi sottrago e anzi sono io a chiedere un confronto pubblico. Vedremo lunedì cosa deciderà il prefetto. Andiamo avanti. Oltre a vendere prodotti alimentari e non per i quali era autorizzata, vendeva anche farmaci e lo faceva abusivamente. La donna, una cinese di 30 anni, è finita nei guai nei giorni scorsi dopo il controllo della polizia municipale nel suo negozio in via Tazzoli. Le scatole di medicinali esposte vicino al bancone sono state sequestrate, mentre la trentenne è stata denunciata per esercizio abusivo della professione. 20 ovuli contenenti marijuana del peso complessivo di 100 grammi nascosti nella vegetazione e pronti per essere spacciati sono stati trovati dal cane antidroga Batman del nucleocinofili di Firenze nei giardini della stazione centrale nucleocinofili dei Carabinieri. La scoperta è stata fatta durante un maxicontrollo effettuato dalla Compagnia di Prato nella serata di ieri. Nell'ambito del controllo è stato anche arrestato per furto aggravato, un pregiudicato sorpreso mentre stava rubando una bicicletta da corsa ad un cittadino. Denunciato invece un marocchino per aver danneggiato per futili motivi i vetri di due auto in sosta. Alla Croce Rossa sono andati i libri sequestrati dalla Guardia di Finanza a un ambulante abusivo. Nadia Tarantino. I libri e i quaderni sequestrati a un venditore ambulante abusivo sono stati donati alla Croce Rossa italiana e finiranno ai bambini della pediatria dell'ospedale Santo Stefano, agli ospiti delle case famiglia e alle scuole nelle cui classi vengono svolte lezioni di disostruzione pediatrica che altro non è che l'intervento di primo soccorso che può salvare la vita a un piccolo che rischia di soffocare per l'ingerimento di oggetti minuti o di cibo. Ecco che il lavoro della Guardia di Finanza contro l'abusivismo commerciale è diventato un'opera caritatevole. Centinaia tra libri e altri articoli per bambini sono stati sequestrati a un venditore ambulante intercettato nei pressi delle scuole. Privo di autorizzazioni, l'uomo vendeva libri e quaderni non conformi alla normativa. Una volta intercettato dai finanzieri è stato fermato e multato mentre la merce è stata confiscata. E ora saranno i bambini ad usufruirne. L'iniziativa, spiegano dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, si pone nel quadro del costante impegno sul territorio dove, a fianco alla lotta verso ogni forma di criminalità economico-finanziaria, trovano spazio diverse iniziative benefiche volte a assicurare la vicinanza ai più bisognosi. L'esempio è proprio quello dei libri donati alla Croce Rossa italiana e destinati ai bambini, questa volta in modo legale e gratuito. Un cane che scorrazzava in tangenziale all'altezza di via di Cantagallo è stato messo in salvo dalle guardie zoofile Earth di Prato. È successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, le guardie stavano rientrando da un sopralluogo per una segnalazione di maltrattamento, quando hanno visto il cane che, spaventato, correva pericolosamente vicino alle auto in transito. Messo in sicuro, l'animale e le guardie zoofile hanno identificato il proprietario nei cui confronti è stata elevata una sanzione amministrativa per non aver utilizzato un guinzaglio adeguato alla taglia dell'animale. Secondo quanto accertato, infatti, il cane si era spaventato quando al guinzaglio del proprio padrone aveva incrociato un cane di taglia più grande. Spaventato, causa un collare troppo largo, era riuscito a sfilarselo e a scappare verso la tangenziale. Nasce CAP Academy, una scuola di formazione per autisti e manutentori. Ci spiega tutto Alessandra Grati. 20 tirocini formativi per autisti e meccanici. Sei mesi per imparare un mestiere e avere la patente per il trasporto pubblico. Una riserva di personale specializzato a cui la CAP, per far fronte al turnover, potrà attingere. Il progetto pilota CAP Academy partirà nei prossimi mesi e si rivolge a giovani inoccupati dai 21 ai 26 anni. Il termine per presentare domanda scade il 18 marzo. Nel frattempo sono arrivate le prime adesioni. Personalmente mi piacerebbe molto di più fare l'autista, ma anche perché fin da bambino sono stato sempre affascinato da questa figura che è l'autista, quindi poi non sta a me a decidere. La selezione riguarda solo autisti e manutentori, a cui verrà rilasciato un certificato di specializzazione. Ma nei prossimi mesi si potrebbe ampliare anche la ricerca di nuove figure. Le modalità di inserimento che abbiamo pensato sono quelle del tirocinio formativo e si tratta di un percorso di sei mesi che sarà strutturato su due distinti binari. Una di formazione in aula per apprendere alcuni elementi relativi all'organizzazione del lavoro all'interno di Cap Società Cooperativa e una parte di tirocinio training on the job tramite l'affiancamento con tutor dedicati. Per ora però non sono previste nuove assunzioni. È un po' un tentativo di fare una scuola interna dove diamo la possibilità ai giovani di sapere che ci può essere un'attività di lavoro continuo che sul territorio credo sia una cosa molto importantissima in un periodo di crisi. Per partecipare al tirocinio retribuito bisogna inviare la domanda all'email kacademy.it Bene, è tutto. Grazie per averci seguito. Notizie di Prato Tg torna domani alla stessa ora. Buona serata. Grazie a tutti.